Buongiorno a tutti, mi chiamo Stefano Gatti, sono il General Manager Participant di Expo Milano 2015. I will make a brief introduction in Italian. Buongiorno a tutti, buonasera a tutti e grazie a tutti per essere presenti, ai paesi e alle autorità qui presenti. Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto a nome di Expo Milano 2015 e ho il piacere di introdurre i primi saluti di questa sessione. Avete visto tutti come già a partire di ieri sera la città di Bergamo e il territorio ci ha accolto in maniera, devo dire, abbastanza incredibile. Ne siamo assolutamente grati e quindi è ovviamente opportuno che la prima persona che io chiamo palco qua per intervenire è il Sindaco della città di Bergamo. Prego. Signore e signori, gentili ospiti, benvenuti di cuore nella città di Bergamo. È la città dei mille per ricordare la importante partecipazione dei bergamaschi alla spedizione di Garibaldi che portò alla sostanziale unità nazionale. Ed è quindi motivo di orgoglio per noi essere stati partecipi importanti di questa fase della nostra storia. La nostra è una città non grandissima, 120.000 abitanti, al centro di una provincia invece molto grande, 1.200.000 abitanti. È una provincia dove i valori sono molto importanti e tra questi il lavoro occupa senz'altro i primissimi posti. L'attività industriale, l'attività del terziario e sempre più l'attività turistica ne caratterizzano la gente e i luoghi. Questa è la terra di Donizetti, questa è la terra di Caravaggio, questa è la terra di Papa Giovanni XXIII. Abbiamo recentemente sottoscritto un importantissimo per noi protocollo d'intesa, sotto la guida della Camera di Commercio, per concentrarci tutti su Expo 2015. Comune, provincia, appunto Camera di Commercio, Università di Ocesi. Tutti assieme siamo fortemente impegnati per questo appuntamento. E Bergamo sa che deve e può usare, seguendo le indicazioni del nostro sottosegretario, che è l'artifice massimo di questo nostro incontro. E lo ringraziamo. Mi sono permesso di dirgli di non andare a fare il ministro perché noi ti vogliamo qui a guidare questa grande sfida del nostro territorio. Oltre agli altri impegni di altri enti a partire dalla Camera di Commercio, la città e il Comune intendono essere fortemente impegnati e presenti. Non solo nel darvi l'ospitalità con il sorriso della nostra gente, non oso dire con il sole del nostro territorio, Con tanti momenti che la città dà di apertura verso questo evento che si realizza in questi giorni, ma anche assumendo degli impegni importanti per il futuro. L'anno 2015 sarà un anno che vedrà tutto il nostro territorio fortemente impegnato per sottolineare la condivisione degli obiettivi, per dare la massima ospitalità a coloro che verranno nel nostro Paese, per realizzare assieme eventi culturali e imprenditoriali che sottolineano le caratteristiche di questo grande appuntamento nazionale e internazionale. Per quanto riguarda il Comune di Bergamo, noi assumiamo tre impegni forti, che si sommeranno a tutti gli altri che andranno a maturare ulteriormente nel prossimo futuro, e cioè la riapertura dell'Accademia Carrara, che è uno dei più importanti luoghi di cultura e di arte del nostro Paese, la creazione di un nuovo orto botanico, ed intesa in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private, la realizzazione di una serie di mostre, la più nota al momento è quella che la Fondazione Critto Bergamasco organizzerà su Palme il Vecchio, ma che sarà abbinata ad altre iniziative anche proprie dell'amministrazione comunale. Chiudo ringraziandovi per essere venuti, ribadendo il grande piacere di avervi i nostri ospiti e dandovi un appuntamento, voi, i vostri collaboratori, possibilmente i vostri familiari, nel 2015. Bergamo vi accoglierà a braccia aperte, con impegno, con amicizia, cercando di mostrare tutte le sue bellezze e i suoi risultati culturali e imprenditoriali. Ci vediamo allora dunque, tutti assieme, e per allora vi prometto tanto sole.